Il Presidente ha voluto far proprio questo titolo ma non so quanto per l'Istituto, noi la volevamo di male ma non so quanto per l'Istituto. Ok, allora siamo, ho perso il conto, anzi lo leggo sulla borsa, la quarta edizione di questa regata nazionale speciale Olympics. Io spendo giusto due parole a riguardo. Allora innanzitutto perché è nata? È nata perché abbiamo voluto quattro anni fa far uscire un po' dal guscio, far conoscere all'esterno, dare uno stimolo ad uscire all'esterno quell'attività che la canottieri Adria portava avanti già da ora dei cittadini. Quindi con l'organizzare questa regata abbiamo voluto invitare qua una serie di persone che sono diventate degli anni degli amici, con la maiuscola, e abbiamo voluto stimolare la canottieri Adria, che per fortuna ci ha seguito e spero che continuerà a farlo, a uscire anche lei da Trieste ed andare almeno una o due volte all'anno a fare qualche evento in qualche altro posto, perché giustamente è giusto ricambiare le visite che ogni anno gli amici da molto lontano, da Roma, dalla Spezia, ci vengono da Torino, che purtroppo quest'anno l'ho dovuto rinunciare dopo che ci avevano detto che sarebbero venuti molto volentieri. Quindi questo è il motivo per cui è nata questa manifestazione. Siccome, permettetemi un momento quasi di... non scambiatelo per... non mi viene anche la parola, non è arroganza, non è... non so come dirlo. Noi qua siamo lontani da tutto. L'avete visto anche arrivando qua, vi siete fatti la coda in A4 e tutto quanto. Siamo una realtà molto affortunata. Una volta noi eravamo l'appendice dell'impero. Oggi siamo l'appendice della Repubblica. Ma sempre l'appendice siamo. Il problema è che l'appendice la tagliano, intanto. No, la parla è battuta a parte. Siamo una realtà veramente fortunata perché lo vedo ogni volta che mi confronto con i miei colleghi delle altre regioni. Noi abbiamo la fortuna che qui a Trieste, veramente in uno spazio ristretto, siamo in nove società. Ma comunque nella nostra regione alla fine in un'ora di macchina siamo 14 società. siamo un bel movimento, a livello giovanile siamo il secondo movimento in Italia. Ma in spazi ristretti. E questo sicuramente ci agevola negli spostamenti, nelle organizzazioni, nelle manifestazioni e tutto quanto. Questo devo dire che per noi è sicuramente una fortuna. Ma noi questa fortuna la vogliamo cavalcare e vogliamo tutto sommato andare avanti con la nostra filosofia. Nel rispetto delle regole e tutto quanto, quello che prevede la nostra federazione, ma anche con la nostra filosofia. Questo per dire cosa? Per dire che la nostra filosofia, per esempio, in questo evento, è quello al di là dell'evento sportivo, che rimane comunque l'evento centrale ovviamente di questo weekend, è quello di regalare a tutti quanti, quelli che decidono di venireci a trovare, tre giorni, due giorni e mezzo, come vogliamo calcolarli, di vacanza. Quindi stasera iniziamo con una festa, domani mattina faremo le gare del margometro e spero che il tempo sia nelle mente con noi e non cada la pioggia prevista. Domani pomeriggio sarete liberi di visitare il centro città, domani sera avremo un'altra bella festa e domenica mattina faremo le gare in barca. Quindi questa è la filosofia e lo spirito con cui noi abbiamo da subito, dalla prima edizione, voluto organizzare questa regata. Io come dico sempre, noi come comitato regionale non siamo niente se non abbiamo le società che ci supportano, che ci sostengono. Nel senso che noi possiamo mettere le idee, possiamo mettere qualche soldino, per fortuna e va ringraziata di continuo la Regione Autonoma Priore di Venezia Giulia che ci ha sempre sostenuto per l'organizzazione di questa manifestazione, ma senza avere ovviamente la disponibilità di una società che ci spalanca le porte e ci fa venire qua a fare quello che vogliamo, ovviamente non quello che vogliamo, non lo senso, ci siamo capiti, non sarebbe possibile. Per questo un complimento sicuramente va fatto alla canottieria. Io mi sono già dilucato più di quello che avevo detto. Per cui, prima di consegnare un paio di riconoscimenti a tutti quanti gli ospiti, giustamente la parola di casa al padrone di casa, cioè al Presidente dell'Apria, Francesco Fettiti. Allora, molto succintamente, intendo di ringraziare alcune persone, alcune istituzioni. Allora, innanzitutto, francamente, un grande grazie esteso a tutti coloro che si prodigano in questo settore. Sono persone che non avrò mai molto di conoscere, perché in società ce ne sono molte, e non solo nell'ambito del canottaggio, sono persone che si sono prodigate in passato e persone che si prodigheranno in futuro. Quindi un gran grazie innanzitutto a questo bel, definiamolo genericamente, popolo di gente che sa dedicarsi a un settore importante. Un grande grazie, naturalmente, ai soci della mia società, perché non posso mancare alla signora Luciana che ha creato tutto questo, e a tutti coloro, non li chiamo, non faccio i nomi uno ad uno, a tutti coloro che l'hanno sempre sostenuta, appoggiata, incondizionatamente, va sottolineato quello che vale anche per tante altre realtà, qua si lavora a livello di volontariato, si paga lo stesso il canone, semplicemente per fare, per aiutare, e questo più che mai va a loro merito. Gli interessati non si offenderanno se non faccio i nomi, ce ne sono stati altri in passato. Un grande grazie di colbevo al presidente Max, e non per un vicendevole scambio di complimenti, ma perché la federazione regionale ci sostiene molto. Io ero in vacanza, più o meno tutti lo sapete, ero beatamente in vacanza per due mesi a Sydney, in Australia, quindi un gran grazie alla signora Breda che naturalmente non aspetta altro che di aprire la porta del frio di scomparire. I due grandi organizzatori sono la signora Breda e il presidente della federazione. Un grazie ai soci che ci hanno aiutato per realizzare questo e che ci aiuteranno domani sui campi gara. Un ringraziamento all'Associazione Italiana Scelerosi Multipla che ogni anno ci sostiene con un contributo, piccolo contributo in denaro, ma largo o piccolo che sia è un contributo. Noi abbiamo un affatellamento, chiamiamolo così, dell'Associazione Italiana Scelerosi Multipla perché organizziamo degli avvenimenti e anche molti nostri soci, quando ci sono, apprezzano questo nome, dell'Associazione Italiana Scelerosi Multipla, danno il loro tempo e ne siamo fieri. Un gran grazie alla famiglia Loser, Giovanni Loser è stato il nostro socio per un periodo brevissimo, poi a un certo punto mi ha detto, senti, mi ha insegnato a vogare molto bene, perché a vogare mi annoio domani, preferisco la bicicletta, dico, per amore di Dio, fai lo sport che ti piace, non sentirti in obbligo. Lui ogni anno ci regala una torta, noi abbiamo quest'anno voluto blasonarla, darle così, un'aura di... e siccome voi sapete insomma che noi abbiamo questa elenità sburgica, lui si chiama Loser e da quest'anno la torta si chiama Loser Torte. Dal momento che noi abbiamo tutto un apparato gastronomico dolciario, abbiamo la Sacher Torte, l'Apfesgrudel, le Paracinche e altro che non mi viene in mente, aggiungiamo anche questa Loser Torte, va a vedere che magari creiamo una nuova tradizione trestina. Un gran grazie al signor Loser, alla famiglia Loser e adesso va molto brevemente, perché di poche ore fa le racconto un accadimento insomma.